Ciao ragazzi, oggi vi voglio far conoscere il mio vino dell'azienda agricola Bastianich che nasce nel 1997. L'azienda fa principalmente vini bianchi, il Vespa bianco è un po' il punto dell'azienda, che è un uvaggio di Chardonnay, Sauvignon Blanc e Piccoli. Vengono fermentati in cemento, acciaio e legno. Si chiama Vespa perché nel 1997 il primo taglio di questo vino si lancia un Vespa nel bicchiere e da lì è nominato sempre Vespa. In Vespa Rosso invece c'è Refosco, Cabernet e Merlot. La differenza è che questi sono vini di annata, escono due tre anni dopo l'annata. Poi c'è anche la linea Vignorsone che sono tipo Friulano, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, che sono vini di varietà, qui sono di annata, sono molto più puliti, diciamo più puri. Sono vini fermentati solo in acciaio, allora qui si rappresenta molto più il terroir e la varietà. Si chiama Orsone perché la colina dove ci sono i vigneti sembra il profilo di un orso e qui si fa le monoe varietà tipo Friulano, Sauvignon Blanc, si chiama Vignorsone. Queste coline di Collio Orientale hanno questo terroir che si chiama Ponca che dà la nascita di questi vini molto strutturati, molto profumati, di grande espressione del territorio. Si chiama Vespa perché si chiama Vespa perché è un nome fido. Grazie a tutti. Grazie a tutti.